buonasera a tutti appassionati di storiografia militare e bentornati di nuovo nel quartiere generale di venese a 90 dopo la pausa natalizia eccoci di nuovo qua spero che i miei amici utenti abbiano passato un bel natale in famiglia si siano divertiti e chi gabbia magna e beuo siamo di nuovo qui questa sera con un video risposta che voglio rispondere ad un utente che mi ha fatto un commento un commento che secondo me comunque è degno di risposta perché piuttosto che stare a scrivere la preferisco fare un video e così gli rispondo prima allora veniamo dunque il commento è stato fatto in uno degli ultimi due video dove che appunto parlavo del reggio esercito sul fronte russo ho parlato appunto in quel video del perché l'esercito italiano fu inviato a combattere sul fronte orientale beh sappiamo tutti più o meno il perché però il commento che mi è stato fatto merita un attimo di attenzione perché di nuovo si viene a parlare che se malta l'isola di malta quest'isoletta nel bel mezzo del mar mediterraneo tra la sicilia e nord africa per la sicilia più precisamente la libia isola nel canale di sicilia per far prima se fosse stata conquistata molto probabilmente le sorti andavano a favore delle potenze dell'asse le sorti della guerra sarebbero sarebbero state sfruttate a favore delle potenze dell'asse l'utente scrittore ma non troppo mi scrive praticamente purtroppo malta dopo la disastrosa vittoria a creta non del tutto torto perché comunque benché l'isola di creta sia stata conquistata con successo dalle dalle truppe aviotrasportate tedesche però come ben sapete l'operazione mercurio l'operazione mercur ebbe delle perdite pesantissime tanto che appunto hitler dopodiché ci pensò più di qualche volta a cercare di pianificare operazioni aviotrasportate su vasta scala ne fu un caso però non della portata dell'operazione mercur ad esempio l'operazione ross sprung che il battaglione 500 paracadutisti dell'esss tentò la cattura del maresciallo josef broztito che era appunto il comandante dell'armata popolare di liberazione jugoslava i partigiani comunisti jugoslavi per per farla breve continua l'utente a questo punto poi malta divenne off limit chissà come sarebbe cambiato l'equilibrio nel mediterraneo nel breve periodo se le cose fossero andate diversamente allora caro scrittore ma non troppo non hai tutti i torti però qual è il discorso malta l'isola di malta anche se veniva conquistata non risolveva tanto a favore nostro a favore dell'asse in quel caso la nello scacchiere mediterraneo parliamo della germania ma soprattutto il nostro fronte principale delle forze armate italiane non avrebbe risolto la guerra a nostro favore allora io non sono uno stratea assolutamente sono l'ultimo di pirla in questo caso però devo dirti una cosa io qualche annetto fa ho letto il libro di giorgio giorgerini che guardate non mi ricordo nemmeno il titolo abbiate pazienza però so che appunto trattava il problema di malta ne ho dedicato anche un video del perché malta non fu conquistata fu solo per pura decisione degli altri comandi sia che tedeschi e soprattutto i tanzi sia che italiani scusami ma soprattutto tedeschi perché dopo la presa la riconquista di tobruck ormai l'armata corazzata italo tedesca era lanciata e seppure rommel non fosse uno stratega anzi non era nemmeno uno stratega questo perché perché tutti gli altri ufficiali tedeschi ancora dai tempi della prussia il modo tedesco di fare la guerra non la vedeva su campo strategico i generali tedeschi che avevano visione strategica nell'esercito tedesco li contavi veramente sul palmo di una mano ti posso citare alcuni nomi von rusted otto von bilhoff il vincitore di caporetto perdite la tutta che io ricordi momentaneamente non ne ho altri che abbiano che avevano una buona visione strategica forse Kessling ma non ne sono tanto sicuro però in quel caso la volpe del deserto il felmaresciallo erwin rommel non aveva tutti i torti del perché voleva arrivare per forza il prima possibile a alessandria d'egitto perché aveva il quell'ottimo grande porto che serviva come base logistica come preziosa base logistica e soprattutto neanche tanto il cairo ma il canale di suez ed il delta del nilo tanto che addirittura rommel convocò a colloquio con lui il l'ingegnere maggiore paolo caccia dominioni che appunto chiesi rommel chiesi informazioni a dominioni di come poteva essere passato il nilo dato che l'armata corazzata italo tedesca aveva non aveva nemmeno materiale materiale da ponte perché comunque come ben si sa tra la libe e l'egitto di fiumi non ce ne sono e quindi il già memore dell'esperienza che caccia dominioni aveva avuto durante la prima guerra mondiale specie durante l'undicesima battaglia dell'isonzo che appunto grazie al suo genio riuscirono a far guadare le truppe italiane che poi andarono alla conquista dell'altopiano della bainsizza questo nel settembre 1917 riuscirono poi di conseguenza a varcare il lisonzo tornando al 1942 e alla situazione del perché malta non fu conquistata il problema fondamentale era questo rommel aveva capito seppur non capiva nulla di strategia e tanto meno di logistica del perché malta non era così necessaria perché la le località preziosi da essere conquistate nella guerra in nord africa erano suez via di comunicazione di vitalissima importanza per i rifornimenti dal medio oriente dell'ottava armata britannica eppure della della flotta britannica del mediterraneo la mediterranea fleet al comando di andrew cannegan e poi il gibilterra e seppure lì magari hitler con le clausole armistiziali con la sconfitta della francia del 1940 ci avrebbe concesso a noi italiani le basi del nord africa francese tunisia algeria molto probabilmente allora lì la situazione si nel mediterraneo potrebbe essere stata a nostro favore poi altra cosa la regge aeronautica non aveva un'aviazione da bombardamento strategico la ricognizione aerea dato anche la scarsa autonomia dei nostri aerei non riusciva a ricoprire tutto il mediterraneo quando gli inglesi per dirti avevano degli ottimi idrovolanti mi pari sunderland che avevano più di 5.000 chilometri di autonomia e riuscivano a pattugliare quasi indisturbati tutto il bacino del mediterraneo giusto per renderla tutta fu pianificata l'invasione di malta certo l'operazione c3 che appunto prevedeva un avio sbarco di truppe avio lanciate formate dalla divisione paracadutisti folgore e dalla brigata ramche da reparti della reggia marina però anche là come si sbarcava a malta che parliamo di un'isola con coste alte e frastagliate poche baie e cale dove le truppe potevano sbarcare come una sorta di pont duoc della normandia formato extra large per dirla tutta l'aviazione fece un buon lavoro piegando l'isola e tenendola sotto assedio per quasi un anno e mezzo e gran parte le maggiori incursioni le fecero chi il corpo aereo tedesco di base in sicilia appoggiato dai bombardieri della regge aeronautica che comunque tutto sommato fecero un buon lavoro però c'è anche la malta riuscì a resistere fosse stata conquistata molto probabilmente la situazione logistica per quanto riguarda l'armata corazzata italo tedesca in nord africa sarebbe migliorata sarebbe stata alleggerita però anche la bisognava avere secondo me una flotta di sommergibili più boat i sommergibili nostri che comunque di numero c'erano però venivano impiegate male e nella maniera più sbagliata possibile una buona una buona aviazione da bombardamento strategico che non avevamo né noi e nemmeno i tedeschi e comunque la reggia marina che già stava si stava facendo in quattro per cercare di per cercare di dare scorta ai convogli che dalla sicilia e dal sud italia dovevano arrivare fino ai porti di tripoli e bengasi per non parlare poi della scarsissima ricettività che avevano i porti libici anche per questo poi l'armata corazzata italo tedesca arrivò a della lamein praticamente con il collo tirato con mezzi carri armati malandati dotata dell'80 per cento di materiale di preta bellica addirittura avevano un cannone campale che gli inviarono date dal fronte russo dal calibro di 76 e 2 che comunque l'avevano lo utilizzavano come arma anticarro che contro i carri britannici aveva era tutto sommato efficace quindi io io non mi viene da dire altro allora in quel caso la seppure rommel era un ottimo tattico però pure lì forse una visione strategica l'aveva vista che bisognava arrivare il prima possibile grazie anche ai rifornimenti con la presa di trovo di tobruck che garantivano perlomeno una un aumento di autonomia alla panzer armi africa bisognava arrivare assolutamente al delta del nilo e soprattutto a suez conquistando prima la base ed il porto di alessandria allora sì la situazione poteva forse volgere a nostro favore ti ripeto io non sono uno stratega sono solo un appassionato faccio tanti errori quando parlo perché comunque posso aver detto qualche minchiata anche nel mio video però ho cercato di spiegarti il motivo perché malta anche se veniva conquistata non avrebbe risolto a favore nostro le sorti della guerra nel teatro mediterraneo perché pensaci un attimo pure creta è stata conquistata e se guardi bene se ti guardi una piantina ha comunque una posizione più vantaggiosa rispetto a malta malta avrebbe solo potuto alleggerire la situazione logistica che già era precaria perché veniva tutta trainata tramite camion si può dire facendo quasi 2000 chilometri da tripoli ad el alamei quindi avrebbe potuto migliorare un po la situazione ma messi così dove cavolo volevamo andare bene io non mi viene non mi viene da dirti altro quindi spero che spero non ti sia offeso semplicemente solo ho voluto rispondere a questo messaggio perché tanti danno troppa importanza a malta e non sono io che lo dico ma pure già giorgerini nel suo libro scrisse come malta non era così essenziale per volgere la guerra a favore dell'asse nello scacchiere mediterraneo tutto qua poteva essere una buona soluzione cosa i porti della tunisia e soprattutto arrivare con un con più armate e soprattutto totalmente mobili e meccanizzate a cosa a suez ma già i generali wavello connor al comando della western desert force nel 1940 quando praticamente con l'operazione compass travolsero la decima armata del generale graziani quasi arrivando fino a tripoli gli inglesi si fermarono a della gaila per anzi gli anglo indiani si fermarono a della gaila per il semplice motivo che avevano pure loro la logistica tirata per la folla e corsa e in più tolsero uomini che poi vennero inviati in grecia perché scattò l'operazione l'offensiva italiana sul fronte greco albanese nella regione montuosa dell'epilo quindi anche lì il motivo che appunto anche gli anglo indiani si fermarono a della gaila ma per poco non arrivavano in tripolitania e lì o'connor disse se gli italiani vogliono arrivare al delta del nilo devono avere totale mobilità carri armati artiglieria al traino e mezzi motorizzati tutte queste quattro cose noi eserciti italiano non li avevamo migliorarono di certo quando arrivarono i tedeschi in nostro soccorso con l'africa corps ma poi quando l'africa corps diventò armata corazzata italo tedesca panzer armé africa lo stesso c'è pochissimo carburante mezzi scarsi malandati non perfettamente all'avanguardia e di conseguenza rommel si fece in quattro e fece anche troppo e fece di miracoli per arrivare fin dove siamo arrivati fino ad essere arrestati davanti alle postazioni fortificate della linea di alamain presidiate dall'ottava armata britannica quindi guarda io non non devo dirti altro spero che il mio video ti abbia convinto comunque ti ho dato delle basi delle fonti che puoi andare ad accertare del perché malta non sarebbe stata la chiave di volta per per vincere la guerra nel mediterraneo tutto qua quindi io ti ringrazio vi ringrazio per l'attenzione ragazzi spero che questo video sia stato di di vostro gradimento io vi invito all'iscrizione del canale che è gratis cliccate sulla campanellina commentate fatemi sapere le vostre considerazioni e sapete che da serenissimo è tutto noi ci vediamo presto ad un prossimo video buonasera ragazzi buonasera ragazzi